Buongiorno a Darmande Scalona, amministratore delegato di Finanze Futuro, la rete di DolceBank. Buongiorno. Sta per partire la vostra convention, quando e dove si terrà? Sì, il nostro annuale meeting si terrà sull'isola di Cipro dal 30 di settembre al 4 di ottobre. Qual è l'obiettivo dell'evento? L'obiettivo dell'evento è quello di, anche quest'anno, celebrare insieme con un numero importante e qualificato di promotori finanziari i nostri importanti successi commerciali. Che novità ci può anticipare? Che cosa presenterete nel corso dell'evento? Ecco, come dicevo, abbiamo avuto un anno fino ad ora veramente importante, tra i migliori degli ultimi dieci anni. Pensi che la raccolta netta al 30 giugno ha superato il miliardo e contiamo di fare altrettanto nel secondo semestre. Ma certamente sarà un momento in cui lanceremo anche dei nuovi prodotti. In particolare voglio segnalare una nuova gamma di prodotti assicurativi che la Zurich, la compagnia nostra partner a livello globale, ha preparato esclusivamente per la rete di finanze futuro. Quanti partecipanti vi aspettate alla convention? Abbiamo invitato quasi 300 colleghi di rete. Di questi ne abbiamo 125 che sono manager, altrettanti che sono promotori finanziari della rete tradizionale e poi abbiamo invitato anche un nutrito numero di private advisor, sono i nostri private banker. Grazie. Grazie a lei.